Una camminata su una spiaggia qualsiasi, del Mediterraneo, non importa quale spiaggia sia, è del Mediterraneo. Guardiamo un po' le conchiglie del XXI secolo. Ce la fate a vederle? Ci sono anche una bella forma per fare un film. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ecco qua. Lo riconoscete questo? Eh? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Eccolo qua. Lo riconoscete? Questo lo riconoscete? Che cos'è? Guarda un altro, guarda un altro, un altro ancora. Eccolo qua. Cosa ci fa il tappo del Mediterraneo, cosa ci fa il tappo del dentifrice in spiaggia? Mi chiederebbe, no? Eccolo qua, poi c'è un'altra, poi c'è un'altra, poi c'è un'altra cosa più drammatica. che è questo. Questo era un'altra, poi c'è un'altra cosa più grande, poi c'è un'altra cosa più grande.